Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico per il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana sta nevicando sui passi appenninici delle statali toscane. Prevista neve anche in A1 sul tratto appenninico, in A11 tra Firenze Peretola e Prato Ovest, nevischio tra Prato Ovest e Lucca Est, prevista neve anche sulla Fipilitra, Montelupo Fiorentino e il Bivio per la A12, segnalato poi personale su strada tra Livorno Aurelia e Livorno Porto in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Est e Fonte Blanda in direzione Roma. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!